Musica Nei prossimi giorni la nostra regione sarà interessata da condizioni meteorologiche a chiara connotazione invernale a causa di ripetuti affondi di aria di natura artica fino alle basse latitudini dell'Europa. Il primo nucleo di aria fredda sta transitando sulle regioni settentrionali e nelle prossime ore si porterà verso il Golfo del Leone dove si scaverà una circolazione depressionaria che impegnerà la nostra regione nel corso di questo fine settimana. Intanto dal Nord Africa risalirà un vortice depressionario che entro la giornata di lunedì 22 si porterà sullo Ionio richiamando su tutto il sud della nostra penisola aria ulteriormente fredda. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 20 marzo condizioni di cielo molto nuvoloso con frequenti precipitazioni ovunque a prevalente carattere di rovescio. I fenomeni risulteranno più abbondanti sul Cilento nella prima parte della giornata dove su molte località potrebbero verificarsi temporali grandinigeni, nevicate in montagna al di sopra dei 500-700 metri con parziali sconfinamenti a quote inferiori tra l'Irpinia e il Sannio. Temperature in diminuzione nei valori massimi, venti moderati da est-nord-est e mare mosso. Domenica 21 condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti lungo la dorsale appenninica dove sono attese sporadiche precipitazioni nevose intorno ai 600 metri. Tra il pomeriggio e la serata nuovo diffuso peggioramento ad iniziare dalla costa con precipitazioni in estensione alle rimanenti aree. Le precipitazioni nel corso della notte assumeranno carattere nevoso a quote di media-passa collina dunque saranno possibili spruzzate di neve fin sui 200-300 metri ma con modesti accumuli solo al di sopra dei 700-800 metri. Venti deboli da nord-est in rinforzo dalla serata, mare da poco mosso a mosso. Nei primi giorni della prossima settimana l'ondata di freddo raggiungerà l'apice con venti che nella giornata di martedì 23 marzo potrebbero risultare di forte intensità da est-nord-est. La nuvolosità tuttavia interesserà le aree interne dove saranno possibili deboli nevicate fino a quote molto basse, mediamente sui 400 metri. Ci attende dunque una fase di tempo invernale tra le più intense che si sono verificate negli ultimi decenni in questo periodo. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a seguire i prossimi aggiornamenti che saranno pubblicati sul gruppo Facebook Meteo Cilento e sul sito meteogiuliacci.it. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.